E rieccoci cari amici, sempre pronti su Pausa Caffè, zitti zitti arriva una notizia pazzesca per Carlo Conti, uno dei maggiori esponenti dei conduttori TV, che avrà accolto con grande entusiasmo la bella notizia aggiunta proprio nelle scorse ore. Certamente le sue aspettative erano alte, quindi i presupposti sì che c'erano e c'erano proprio tutti, ma forse è andato tutto oltre ogni previsione. Ad annunciare per primo questo grande traguardo del conduttore è stato il sito Davide Maggio, poi man mano anche gli altri siti hanno cominciato a riportare tutto online finché si è arrivati a Pausa Caffè, che ha riportato totalmente online questa notizia. Giorni fa invece Carlo Conti non aveva ricevuto una bella notizia. L'ultima puntata dei migliori anni dell'estate ha fatto registrare 2.864.000 spettatori che corrispondono al 19,7% di share. Una settimana fa i telespettatori erano stati 3.894.024,4%, dunque c'è una perdita netta di un milione di utenti. Se non è un crollo questo. Il motivo è semplice. Su Canale 5 la prima puntata del Volo Tutti per Uno ha totalizzato 3.128.000 spettatori e 23,6%. Parlando dunque di Carlo Conti, la bella notizia è arrivata grazie agli ascolti televisivi che hanno premiato Rai Uno. Battuta nettamente la concorrenza, rappresentata in particolare dal film Yesterday. Trasmesso su Canale 5, è stato guardato da 1.363.000 telespettatori, ottenendo uno share dell'8,5%. Invece è andata molto bene la trasmissione con il cuore nel nome di Francesco, che si è svolto in Umbria nella città di Assisi. Lo show in onda su Rai Uno ha conquistato 2.899.000 telespettatori, totalizzando anche uno share del 17,7%. Festa grande in Viale Mazzini, infatti i vertici avranno brindato davanti a questa novità. Raramente Carlo Conti ha deluso le attese, quindi è ormai una sicurezza per la TV di Stato. E in futuro si continuerà a puntare ancora fortemente sulle sue indiscusse qualità professionali. L'anno scorso Conti ha condotto The Band e dall'Arena Lucio. Dal 2019 conduce Lo Zecchino d'Oro, mentre dal 2012 è al timone di tale e quale show non che tale e quale show il torneo. Politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.